Scoperta una lunga serie di reati fiscali e fallimentari. La Guardia di Finanza di Fano ha eseguito un provvedimento di misura cautelare personale che ha imposto ad un indagato anche il divieto di dimora nel comune dove hanno sede le attività imprenditoriali che lui stesso svolgeva. Le indagini hanno infatti accertato il coinvolgimento di numerose società e persone fisiche operanti nel settore tessile di lusso coinvolte in un sistema illecito che era stato congegnato per realizzare in maniera sistematica operazioni economiche finalizzate a svuotare il patrimonio di società inattive e destinate al fallimento a vantaggio di nuove realtà aziendali. Le investigazioni hanno consentito di individuare l'attore principale delle condotte fraudolente che era pure a capo di tutte le società e tutti i componenti del sodalizio criminale costituito da familiari, consulenti e dipendenti, tutti disposti ad agire come prestanome con il fine ultimo di trarre un illecito profitto personale realizzando più condotte di bancarotta fraudolenta. Condotte che hanno determinato sia il depauperamento del patrimonio sociale, distraendo e dissipando beni per circa 4 milioni di euro, sia l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e prividenziali, inadempienze per le quali per il momento è stato eseguito un sequestro preventivo per equivalente per l'importo di 47 mila euro corrispondente alle contribuzioni non versate.